bentornati a tutti nel mio canale oggi vi farò vedere un'applicazione che è veramente dello straordinario quante volte vi capita di fare una foto e magari c'è qualche imperfezione o qualcuno in mezzo o non lo so anche un albero un uccello un piccione ma con questa applicazione che si chiama touch and touch ed è prodotto dell'adversoft potrete creare delle foto fantastiche eliminando ogni difetto e imperfezione l'applicazione in questione è disponibile per android ios pc andiamo a vederla più nel dettaglio allora selezioniamo questa foto in questa foto vedete c'è un personaggio che rovina un po il tutto perché nel cerchio delle luci andiamo a rimuoverlo basta selezionare col pennello ed ecco qua che come per magia il personaggio non c'è più andiamo a tagliare anche la signora colombello sempre con il nostro pennello andiamo a selezionare l'ideale sarebbe avere un pennino touch ed ecco qua facciamo go e la signora non c'è più vedete sono spariti vedete ci sono non ci sono poi possiamo salvare la nostra foto condividerla via dicendo possiamo anche scegliere di farlo con l'azzo vedete selezioniamo nella zona può fare con la gomma nel caso abbiamo selezionato troppo adesso andiamo a vedere un'altra foto per togliere imperfezioni vedete questa bambina dei nei noi facciamo riparazione rapida e selezioniamo il neo vedete lui ce lo fa sparire ecco abbiamo un altro punto nero qui abbiamo un altro neo vedete proviamo a fare vedete ci toglie anche eventuali borse sotto gli occhi proviamo ancora un'ultima foto proviamo questa qua vedete questa ragazza anche lei è un neo e ce l'ho tolto un altro neo qui il naso un po rovinato vedete qui possiamo andare a togliere veramente le imperfezioni del volto vedete vi faccio vedere l'ultima foto vedete qui ci sono dei tralicci che rovinano un po' allo stile della foto andiamo a rimoralli ecco qua che ne ho visto uno ed eccola qua qui abbiamo altri tralicci per sbaglio schiacciato lì intanto va in pappa anche lei in questo caso è andato un bel pappo selezionato un po troppo andiamo a togliere vediamo ecco qua vedete il risultato sorprendente voi cosa ne pensate vi piace questa applicazione se ti è piaciuto questo video iscriviti e non ne perderai neanche uno non ne vediamo ecco qua non ne vediamo ecco qua